Un pomeriggio a lago con gli amici, poi la tragedia e il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni recuperato dopo ore e ore di ricerche nelle acque dell'invaso di Bilancino. Uno studente pratese di 19 anni, Mirko Reali, è morto ieri e ha negato probabilmente in seguito a un malore che lo ha colpito mentre stava facendo il bagno. Dopo ore di ininterrotte ricerche, cominciate quando gli amici con cui era andato al lago hanno dato l'allarme, il ritrovamento sarà l'autopsia disposta dalla procura di Firenze a fare luce sulle cause del decesso. Il giovane assieme agli amici stava trascorrendo un pomeriggio di svago, il gruppo si è diviso e si è dato appuntamento alle 18 al bar. Lo studente, 19 anni compiuti il 7 luglio, appena diplomato al liceo Copernico e che martedì scorso figurava nell'elenco degli studenti di Prato più bravi che hanno superato la maturità con un voto tra 90 e 100 e per questo festeggiati dalla provincia, non si è però presentato. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e le unità cinofile per le ricerche sia in acqua che a terra. presente anche un elicottero per dare più efficacia alle ricerche che sono proseguite senza sosta anche al buio grazie a speciali apparecchiature e alle fotocellule che hanno illuminato la zona giorno. Lungo le sponde dell'invaso sono stati recuperati gli oggetti personali del giovane, uno zaino con dentro il cellulare e un paio di ciabatte. Si è pensato al peggio quasi subito, un pensiero che purtroppo è diventato realtà. Il corpo è stato recuperato nel cuore della notte nelle acque del lago.